Una donna che sa sempre quello che fa Lucia Mondella, Raffaella Carrà, è una esuberante ragazza in minigonna, un po' anticonformista e tanto, tanto ieie Schiava lei non sarà Alla fine, naturalmente, il matrimonio che non si doveva fare né oggi né mai viene celebrato Dopotutto, anche i promessi sposi, quelli veri, il loro lieto fine ce l'hanno Oramai ho capito che per Gusa, per me, è come Rocchetta Tanolo Mi trovo benissimo, i parrocchiani sono della brava gente Come a Rocchetta Tanolo, tutto il mondo è paese, c'è il buono e non è il meno buono Ad ogni modo me ne vivrò qui in santa pace con i miei amici Adesso sei confusa con lo sì, con tanti sì È un giorno di felicità e di serenità Ogni un giorno, amore, fedeltà A sazietà Stretta l'avore della via, la chiamata di regenzia Ed anche quella degli altri finiscono qui Viene bene, tutti, sempre tutti e felici Trappi 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 dappi Anche il romanzo che scrisse Alessandro Manzoni finisce così Oll'età ci vuole per i terà E rampe da papà Tra i tuoi piccoli per me Consegnerà Consegna a figli a Don Sassà A Renzo Don Pivino E questa storia fine non avrà Continuerà Grazie a tutti.